Ecco, ci hanno preparato una felice sorpresa, anche dell'invito, chi lo ha preparato per il cammino? Io resta con mia zia. Grazie, grazie tanto. I vostri dolcenti, ecco le ciambelle e poi abbiamo la crostata. E poi c'è anche... Sì, perfetto. Lo usiamo noi quando, dopo ogni novena, si offre, si fa l'invito, ogni giorno. Quindi sono 15 giorni, sempre l'invito. Sempre l'invito. Allora avete preparato un po' di bibite, un po' di caffè, un po' di dolci. Questa crostata buonissima, guardate, ha i frutti di bosco, fatta da voi. Grazie. Ciao. Ciao. Un po' di ciambelle. Ah, svegli che prendo. Ciao. Ma scusi Don Ignazio, ma da Ghilazza per andare a Milano Patustica, dove si passa? Non lo so, non ci sono mai state. Ebbene. Abbiamo avuto 15 su 16, non possiamo dire niente. E noi assenti tutti qui, non c'è una cosa. Noi purtroppo siamo andati a scuola per me solo a lei. Perché noi stiamo vivendo la basata, ma io sono di borsa. Lui mi sta più su questa zona, insomma, non la conosciamo. Quindi cerco di poterlo piangere più torna anche con lei. Abbiamo ancora altre due? Sì. E poi ha detto riprenderanno dopo Pasqua. Dopo Pasqua c'è qualcosa? Sì.